Allora, in qualità di produttori di Legend, vi vorrei chiedere poi a Raicino, ma come scegliete i progetti da seguire? In realtà siamo distributori in Italia, quindi l'abbiamo però acquisito prima che il film fosse fatto. Beh, come si acquisisce? Si vede sulla sceneggiatura, l'attore, i registi, si capisce la qualità del film, si cerca di capire naturalmente. Questo era un progetto molto bello, con un attore fantastico che, non voglio dire cose forti, la seconda che vince l'Oscar con questo film. Per cui il regista è un regista importante, quindi due anni fa abbiamo deciso di acquisire i diritti per l'Italia, quindi siamo molto contenti. Però il film uscirà un pochino più là, uscirà a fine gennaio. Cosa ne pensa di questa festa tornata a essere festa? Ma io penso quello che dico sempre, perché più si vede cinema, più feste o festival ci sono, importanti, con prodotto di livello, meglio è. Quindi io non vedo problemi nel fare festival, feste, l'importante è che la gente possa venire, possa vedere tanti film, possiamo tutti avvicinare o avvicinare le persone, a parte a questo magnifico posto, ma soprattutto al cinema. Questa è la cosa più importante. Grazie mille. A voi. Alla prossima.